Sono invece 13 gli interventi in programma per la messa in sicurezza del territorio da parte del Consorzio Burana. Sentiamo. Siccità e piaggio abbondanti costringono Regione e Consorzio di Burana a interventi straordinari sulla rete idrica modenese, dalla Pennina alla Bassa. Sono 13 le operazioni previste per la messa in sicurezza del territorio. Si tratta di interventi su frane e smottamenti e manutenzione dei corsi d'acqua per oltre un milione di euro. Si tratta di interventi per la messa in sicurezza dall'Appennino fino alla Bassa Pianura. Sono interventi che la Regione Emilia-Romagna ha voluto stanziare a favore del Consorzio di Bonifica di Burana, anche a andare a dimostrazione del fatto della straordinaria capacità di progettazione che il Consorzio di Bonifica, grazie alle maestranze interne, riesce a dimostrare sia in termini di qualità della progettazione, ma soprattutto nella tempistica di realizzazione. Questi interventi urgenti vanno a sistemare delle criticità che si sono verificate a causa di problemi climatici che abbiamo avuto negli anni e nei mesi passati che mettono in pericolo alcuni territori. In particolare verranno riprese delle frane, degli smottamenti sul territorio montano, della pulizia dei rii nell'alta pianura, mentre in pianura verranno riprese delle frane su dei canali causate dalle piene degli ultimi piogge avvenute alla fine del 2018. Grazie allo stanziamento del Governo sono previsti inoltre interventi nelle campagne di San Prospero per permettere una migliore irrigazione durante i periodi di forte siccità. In questi giorni stiamo tenendo monitorato la situazione in quanto i nostri canali erano invasati per dare acqua agli agricoltori. Questi invasi sono man mano calati nell'ultimo mese a seguito delle piogge avvenute e per lasciare lo spazio alle future piogge che verranno in questi giorni.